Siamo su uno Skywars Saffire Saffire No basta Saffire Saffire morì No si si Allora non voglio Kito P Eh questa è una delle nostre mappe tra l'altro Perfetto Ho provato ad aprire la cesta con la freccia in mano Guarda cosa succede Non provo a starlo stai in alto Ehi Ehi Che Eh ragazzi è un bug ve lo mostro E' il plugin E' un plugin che dobbiamo togliere Sì io l'ho fatto già mille volte Eeeh ma si E se lo becco Oh se lo becco? Oh quanto rido? No Vedo chi è che mi spara Chi è Lano? Guardalo col suo che sale nella sua cascatella Vabbè Per pochissimo lo prendevo tipo Ma dove sono tutti? Sto chillando il player mi sa che è caduto Sto chillando il player mi sa che è caduto Uh Boom Tovi No che scemo E' certo Tovi Io non vedo nessuno Io sono buono all'angolo No Ale si è cagato Ale si è cagato in mano Io non sei Ale Ah ti vedo Ah no non sei Ma Chi sarà? No non puoi vedermi io non vedo te Magliati chiusi Um No ha fatto un muro Maledizione Chi è? Perché io mi ha sparato quella freccia la? Penso fossi io Il tuo peccato dai Perché io ho le ceste vuote? Non lo so Ma perché io non ho capito Davvero hai le ceste vuote? Non ne ho idea sai Vabbè io vado Nessuno si sta muovendo Oddio Oh Che cazzo era Scherzavo Ale si ne è accorto di me Perché mio ponte? No no chi è che trolla E non vale raga no Non trollate almeno il mio scavo Così lo vedi ti mi impegna a vincere Cioè perlomeno non trovo Figlio non trovo Non trovarà me No Vabbè Poi mi ha rotto i blocchi adesso non ne ho abbastanza per arrivare Ah ma c'è un arco? Ce la farò Eh Ale? Eh? Non avevi un cavolo di arco No Per quello Allora Attacco Ma neanche una spade Niente No niente Non avevo Giusto Saravrei vinto No 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 Uh Ma c'è qualcuno che è caduto Io sono proprio laburo Io sono sopravvissuto Chi è quello là sopra? L'amo Ma da quanto largo Lo stai così tipo Vai che lo uccido Come scavare? Usiamo la freccia Qualcuno mi ha chiuso l'acqua Oh ma perché? Oh è entrato uno Dite di hueco Benvenuto Non vuoi? Beh non vi sente Dovete andare al lab Non capisco Ma ha fatto l'inventario Ma è un pro questo Infatti fracchino però Ma voi non sapete quanto storico ci sto valgando Oh mio dio Chi è caduto? Ma chi è che là che spara frecci in creative? Non vado Ok kick l'amo Should ban Fly Non puoi Oh ho beccato Come non puoi? Sono il founder Come non puoi? L'amo stai volando Sono sulla pietra Ho colpito la moscia che sta lassù Ah ma è sulla pietra? Ma perché io non vedo la pietra? Ma cosa di buggati in questa partita? Come mai ci sono 29 metodoni? Di chi è questo serve? Di chi è questo serve? Che mi ha colpito Che fastidio Che è pieno di bug Indovina? Eh? Cucu Di derp Tadà No Perché non c'è l'arco? Oh l'ho preso Mi hai preso Devo fare un reload dei chunk F3 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 F4 Non ho più cubi Questo è il problema Perché Ale me li ha Qualcuno invisibile me li ha Ho rotto la ceste Ho rotto la cesta Oh io non capisco dove Sono in Game, ma Non sono in Game,ma Definitivamente Ma eri in game ürd No no decisamente No Semplicemente mi mancavi Io non vedo la mappa Qualcuno si è tippato da me Qualcuno si è tippato da me Qualcuno si è tipato da me scompaio un problema qua solo dire un problema qua sotto adesso lo blocco ok ci sono una fa islindro a essere morto io raga non ho più blocchi qualcuno ha blocchi per venire da me aspetta gini io ce li ho allora vieni tu perchè io sono qua no aspetta ecco anche perso una delle due ciasi ne avevo due no no chi è che mi ha provato a fricciarmi indovina mi piace l'idea di sto blusso d'acqua oh ma a forza di tirarmi le frecci ho uno stack e mezzo allora raga allora io ho un serio problema non capisco se state citando no ho problemi allora lì c'è un blu selvatico ho problemi di visuale blu aspetta non scappare ok ahahah l'ho fatto fuori no dai ok ho ucciso ale ti ostini ma non morire ok colpito l'ho colpito via l'ho colpito l'ho colpito madonna che cecchino ma anche saizzi ma sai zinni come fa ad essere vivo lui sta volando vai 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 l'ho preso madonna non ci credo chi è laggiù che sci chi è che va al ponte allora sembra l'unico vero contendente rimasto ahahah figlio oddio sembra l'unico vero contendente rimasto blu per favore puoi cadere non ho idea di come fare sono bloccato qua mi eri ti lasciato senza blocchi posso farlo in creative slash wand mando noi abilità che non c'è dei comandi durante il corpo che è quello che funziona la fly no mi fate volare voi usato usato dai basta ma sono io che ti sto colpendo eh lo so ah quindi non posso dai qualcuno mi spiega cosa sta succedendo basta c'è io ma io sono guarda che sono in survival ma io sono guarda ok ok ma sto player sui berlin non è ancora morto torna a casa oh mio d ma tutto faccia che c'è che c'è no aspetta ciao a mezza no cazzo finito le pregge ho finito le pregge ho finito le pregge Ale fai qualcosa incendi pal pvp non posso dire l'acqua non obbligo non posso dire l'acqua non obbligo non posso dire l'acqua non obbligo ahahah data un'idea è morto no non ci credo io non ci credo non so come muovermi armata ah ecco madonna più non blocco no ma non blocco 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 aderire il vostro finale ideale questo player dovrebbe essere già morte in un senso di continuare a risalire la morte da me due pezzi di legno ma perchè le cesse sono vuote ahahah mi sento osservato no ho quattro frecce ancora oddio che cosa e non posso neanche togliere cosa avevo appena detto ora ragazzi su un server qualsiasi di queste partite non si possono fare oh mi è andato dei blocchi si perfetto posso farci posso vincere l'hanno sponsorizzato dei blocchi posso farcela no non quello quell'altro nooo cosa appena visto come fa a tornare su nooo oddio oddio è luglio sto morendo ho perso basta ho ancora le spalle grazie nooo bene ragazzi se il video vi è piaciuto figlio ho messo proprio male oh no 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 no